Quanto riesci a sembrare distante in mezzo alla gente Tu ti avvicini con un passo sicuro E io ti sfido alzerando il presente Vivo con tutti i sguardi che non si può arantare Perché più sui rompere mai provano a fare l'entrima Ma tratenersi non basta che avendo un nostro sapore Mi conforso il suo soggetto senza pace Mi trovo a ci mangiare Mi conforso il suo soggetto senza pace 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 Che dura un istante Mi conforso il suo soggetto senza pace Mi conforso il suo soggetto senza pace Mi conforso il soggetto senza pace Cioccolate